Buongiorno Eleonora, buongiorno a tutti. La permanenza della dirigente all'istituto occupato a 15 giorni potrebbe avere le ore contate. Infatti sappiamo che ieri è stato il suo ultimo giorno, la dirigente pare abbia presentato, è andata in un'aspettativa di 5 giorni per malattia. Si sa già e circola già la voce del dirigente che potrebbe sostituirla in un periodo più lungo fino alla fine dell'anno per poi far subentrare un dirigente a settembre. La vera notizia è che i ragazzi dopo 15 giorni di occupazione hanno in parte ottenuto ciò che volevano perché la dirigente, almeno abbiamo queste informazioni, si è messa in malattia. Quindi ha iniziato, come aveva fatto precedentemente il professore accusato di presunte malesse sessuali, presentato un certificato di malattia di 5 giorni. Per cui la preside si è messa in malattia, si è messo in malattia anche il professore, tutti e due in malattia. Sì, ho capito. Esattamente, quindi di fatto non ci sono, la dirigente ha lasciato il suo posto che nella sua stanza in cui è rimasta sempre per 15 giorni, come ricordiamo non creando un rapporto con gli studenti che manifestavano, ma anzi creando una forte spaccatura al punto che anche non solo gli studenti ma anche i genitori e i professori le avevano formalmente chiesto che facesse un passo indietro. Allora, per la prima volta, questo sembra all'inizio è partito un po' in sordina, no? Anche sui social, noi questa notizia l'abbiamo vista innanzitutto sui social, su una pagina Instagram e poi è arrivata su tutti i giornali, le televisioni, ne stanno parlando tutti. Di fatto potremmo definirlo il caso del Me Too della scuola. Direttore. Innanzitutto bisogna fare chiarezza, bisogna dire che questa occupazione è profondamente differente da tutte le altre occupazioni che ci sono state negli ultimi mesi in Italia. Sì. Si è occupato a Roma per la seconda prova scritta in italiano, per altre cose di scarsa importanza, possiamo dirlo. Sì. Questa occupazione è un'occupazione invece importantissima, i ragazzi hanno ottenuto un risultato. Se quelle cose che sono successe in quella scuola si fossero verificate nella vita normale, le persone sarebbero state arrestate. Se un uomo di mezza età avesse incontrato una ragazza su un autobus e le avesse detto scattati una foto intima e dammela, l'avrebbero arrestato. Nelle scuole non succede perché c'è forse una mentalità protettiva. Questa protezione si sta frantumando e questo è positivo. Quindi io direi molto onore a questi ragazzi che hanno tenuto il punto e hanno protestato per una volta per una cosa davvero importante. Direttore. Sono totalmente d'accordo soprattutto perché si è abbattuto un muro d'omertà. Io direi che il nemico numero uno, che è quello che regnava forse quando noi eravamo un po' più piccoli, perché c'è sempre stato questo fenomeno del bullismo e dal bullismo si è passati a volte delle esagerazioni come questa. Però io credo che è stato abbattuto grazie alla comunicazione e grazie alla solidarietà tra ragazzi, famiglie e mondo della scuola il muro di omertà che ha sempre regnato per coprire eventi come questi. Quindi l'importanza di questa occupazione è legata proprio al desiderio di uscire allo scoperto e di dire basta con certi tipi di atteggiamenti. Ecco, anche perché su questa occupazione è intervenuto anche il Ministro dell'Istruzione e non solo. Sono state fatte le interrogazioni parlamentari, se ne sta occupando uno dei sottosegretari anche all'istruzione. Per cui mi chiedo, come mai prima le istituzioni, perché devono arrivare poi alla politica, allo Stato centrale, perché non se ne occupano le istituzioni regionali, quelle proposte a? Beh, intanto c'è da dire. E bisogna sempre alzare la voce per farsi ascoltare. Beh, intanto c'è da dire che in questo caso siamo di fronte ad un uso virtuale dei social, mentre prima parlavamo ad un uso pessimo dei social nei confronti di alcuni medici, stavolta è proprio grazie ai social che emergono dei fatti e poi tutti gli altri gli vanno appresso. Quindi questo devo dire è da notare, proprio a riprova del fatto che poi i social non sono né buoni né cattivi ma dipende dal loro utilizzo. Probabilmente quei ragazzi in quella situazione senza i social non avrebbero trovato modo di esprimersi e la cosa non sarebbe nemmeno mai emersa. Questo lo trovo veramente importante, anche perché è il mezzo giovanile per eccellenza. E quindi è stato un ottimo modo per attirare l'attenzione, per attrare l'attenzione. Poi però, dopo di che, adesso calma, adesso ci sono delle indagini in corso e vediamo che sviluppi avranno, perché poi sai che è sempre facile cercare di fare sentenze. Quindi vediamo un attimo. Certo, vedo che ci sono alcuni elementi di chiarificazione. Si sta cercando di chiarificare. Ma questi certificati di malattia, chi è che li fornisce così? No, perché, dico, fatalità, tutti e due hanno un certificato di malattia. Sono i medici di medicina generale. La medicina generale dà il dipendente in malattia. Il problema del concetto di malattia adesso qui, che è una malattia estesa un po' a tutto, quindi non si può negare la malattia a chi in un momento è depresso o in ansia. Sta male o sta vivendo sotto pressione. Sta vivendo un momento difficile, lo capisco. Capisco l'allontanamento spontaneo in questo momento. Ecco, è un allontanamento spontaneo. Gli avvocati di questo professore lamentano una pressione mediatica contro il professore, ma più che contro il professore, contro la famiglia del professore. Non so chi si è arrivato sotto casa di questo professore, ma soprattutto anche dei loro figli, dei figli di lui. Cioè l'estensione, ecco questa è una cosa che un po' mi spaventa, è l'estensione alla famiglia della responsabilità del singolo. Mi sembra una cosa assurda. Cosa c'entra la famiglia del professore? Poi non sappiamo nulla del professore, quindi io sono iper solidale con questa cosa, però anche lui, però innocente fino a prova contraria, vediamo. Però la famiglia, ma la famiglia è difficile entrare nel merito della questione, perché c'è, come diceva Marco, un'indagine in corso e soprattutto è difficile prendere una posizione. Però in effetti la responsabilità del singolo va analizzata, non si può estendere a chiunque. Ecco, si è arrivati a tutta questa situazione, perché quando ci fu questa denuncia alla preside, denuncia verbale ma anche scritta con delle mail, la preside, da quello che noi abbiamo compreso, non ha affatto un granché, più che altro ha promesso di fare, ma poi non sappiamo se abbia fatto o non abbia fatto. Il problema qual è? Che questa ragazza che ha denunciato non è mai stata sentita, mai, per cui si presume che una denuncia effettiva non sia mai arrivata. Allora, intanto ringrazio i nostri ospiti. Vedo che lì c'è un docente di questo liceo che parlerà, ci racconterà tutto quello che sta accadendo proprio in queste ore, anche perché si vocifera che qualcuno abbia chiesto, qualcuno di importante, abbia chiesto un'eventuale rimozione di questa preside. È vero o non è vero? Non lo sappiamo, fra poco chiederemo informazioni a questo docente. Intanto ringrazio Massimo Martinelli, direttore del Messaggero, per essere stato con noi. Grazie a Paolo Petrecca, direttore di Rai News 24. Grazie a voi. Grazie a Marco Antonellis. E un saluto a Paolo Mezzano, ovviamente solidarietà per quello che le è successo. Un abbraccio a suo figlio, che immagino abbia avuto anche... Adesso ci sente un piccolo eroe, quindi abbiamo sicuramente superato molto bene la questione. Questa è una cosa molto bella. Allora, andiamo avanti con questa storia del liceo. Fra poco potrà parlare questo docente. Giulia, tu avevi 14 anni. Ci ricordi cosa è accaduto? Allora, buongiorno. Prima cosa, io frequentavo appunto questo istituto. C'era questo professore che insegnava matematica, che già da per tutto l'anno scolastico tendeva a fare battutina appunto a scopo sessuale, inerenti comunque alla fisicità di noi ragazze, al modo in cui eravamo vestite, facendo allusioni comunque alle parti indime, che siano sedere o seno. Poi a fine anno scolastico, l'ultimo giorno in aula professori, io e lui stavamo per firmare il programma. E appunto lui esplicitamente mi dice, vai in bagno, scattati una foto al seno e in cambio avrai la sufficienza. Questo proprio esplicitamente, non ci aveva nemmeno pensato. Aveva semplicemente sbloccato il telefono, aveva aperto già lui la fotocamera, già pronto. Mi aveva dato il telefono e mi aveva detto appunto, vai in bagno, scattati la foto al seno e avrai la sufficienza. Tu sei caduta ovviamente in una crisi, a quel punto cosa hai fatto? Allora sì, io non sapevo che fare, l'unica cosa sono gelata praticamente, non stavo nemmeno realizzando quello che stava succedendo, l'unica cosa che mi sono sentita di fare era alzarmi e riandare in classe, dove appunto sono andata a sfogarmi con i miei amici, sono andata a trovare conforto. Ecco, racconto di Giulia continua, dopo aver confidato quanto avvenuto in sala professore, e anche i suoi compagni, lei che cosa decide di fare? Decide di informare questa preside, questa preside che oggi, stamattina attualmente, si trova in malattia a casa. Sentite. A quel punto insieme ai tuoi compagni sei andata dalla dirigente. Sì, sì, ho raccontato tutto a loro e insieme mi hanno accompagnato dalla dirigente, a cui ho raccontato tutto quello che mi era successo poco prima, e quindi lì la dirigente è inizialmente stente a crederci, mi dice ma sei sicura, ma è vero, ma non è che ti sei sbagliata, ma come si può sbagliarsi su una cosa del genere, però poi sembra che appunto mi dia anche lei conforto, che mi capisce, in realtà non è stato così, il pomeriggio stesso poi andiamo con i miei familiari da lei a chiedere un incontro. Cosa accade dopo quell'incontro, Giulia? Allora, lei, la dirigente appunto dice che avrebbe, lei fatto denuncia contro il professore, l'avrebbe denunciato lei stessa e l'avrebbe tolto dall'istituto, quindi l'avrebbe licenziato. Invece poi scopriamo dopo un po', quindi all'inizio del secondo superiore, che invece il professore non è stato mai denunciato, non è stato mai tolto dall'istituto e ancora insegnava qui. Ok, fra poco continueremo questo racconto, tappa per tappa, perché ad un certo punto la preside riferisce alla ragazza, alla famiglia, di essere disposta sia a sporgere denuncia nei confronti del professore e a fare molto di più, ok? Per cui fra poco lo ascoltiamo. Ora in diretta abbiamo un docente di questo liceo, sono arrivati altri ospiti, studio, buongiorno a tutti. Roberta, a te. Eleonora, sì, abbiamo il professore Petrone, che è uno dei firmatari di quello che abbiamo considerato un manifesto di scuse ufficiali dei docenti che hanno preso atto della situazione, hanno chiesto scuse e hanno ringraziato gli studenti per l'insegnamento dato. Professore, al momento qual è la situazione e fondamentalmente voi siete stati sempre accanto ai ragazzi, ma qual è la necessità adesso? Allora, quel manifesto che abbiamo fatto aveva un senso molto più profondo. Abbiamo chiesto scuse nel senso che non avevamo capito che c'era un disagio. Al di là poi della specifica vicenda su cui ci sono gli inquirenti e ci sono anche gli ispettori che in questo momento stanno facendo le loro valutazioni e tutto sul tavolo, diciamo, del Ministero. Quindi dovrà essere fatto questo. Il tema vero è che questi ragazzi ci hanno posto una grande lezione che è quella della non sottovalutazione di atteggiamenti sessisti, di una concezione predatoria del rapporto. Lo dico anche come maschio, spesso, come docente maschio, spesso noi senza riflettere usiamo, diciamo, espressioni che sono sbagliate, sono sbagliate culturalmente perché figli di una cultura e quindi ci hanno posto un grande problema educativo, un grande problema pedagogico che deve affrontare la scuola. Ed ecco perché sinceramente non sono d'accordo sul fatto che la scuola sia un elemento di copertura. Anzi, dobbiamo ringraziare questi ragazzi, dobbiamo ringraziare anche i tanti docenti che li hanno aiutati in questa maturazione perché questi ragazzi sono nostri alunni ad avere il coraggio di dire le cose che pensavano, di affermare un concetto di verità. Sulla vecchia specifica poi ci sono elementi che vanno valutati di cui io non ho diretta conoscenza, però dica. Adesso la dirigente pare abbia iniziato a fare un passo indietro come peraltro le aveva consigliato lei. Ma che vuol dire fare un passo indietro? Che clima si vive e come avete appreso questa notizia? Ragazzi, scusate, ma che vuol dire fare un passo indietro? Cioè fare un passo indietro non è stato fatto. La dirigente è in malattia adesso. In un collegio dei docenti molto particolare perché ha allargato anche i ragazzi abbiamo detto che fermo restando, diciamo, ci vuole la presunzione di innocenza di ciascuno fermo restando la giusta impostazione che ha la dirigente di dire io ho fatto quello che dovevo fare, diciamo, la certezza e la correttezza del suo operato oggettivamente si era creato un problema. E questo problema era costituito dal fatto che ormai si era rotto il patto educativo. Non ci si fidava più della dirigente, non ci si fedeva più dei professori, le famiglie stavano raccogliendo firme. Stava succedendo ed è successo una frantumazione di quella che poi è della comunità scolastica che è fatta di famiglie, di studenti, di docenti. Quindi questa frantumazione è un elemento che di per sé aveva, al di là forse della sua stessa volontà, come punto d'arrivo la figura della dirigente. Quando abbiamo chiesto un passaggio indietro abbiamo chiesto, sapendo che non esiste l'istituto delle dimissioni, non esiste l'istituto del commissariamento, ci esistono procedure che invece sono previste dalla legge e dalla norma e che sono quelle sostanzialmente della procedura disciplinare, dell'accertamento dei fatti, dell'ispezione ministeriale che stanno andando. Tuttavia, a una situazione d'emergenza bisognava rispondere con una situazione d'emergenza. Io ho molta stima personale della presa, l'ho detto anche come te, l'ho sempre considerata una funzionaria scrupolosa. tuttavia in questa vicenda, ripeto, si è innescato un meccanismo che andava al di là anche dalla sua stessa volontà e la sua stessa presenza qui ha continuato a girare tensioni. Oggi si è messa in aspettativa per malattia, io penso che sia un gesto positivo, l'avevo anche io in qualche modo consigliato, che era quello, io e tanti altri docenti nel corso di quel famoso collegio, perché consente appunto, intanto agli ispettori che sono ancora qui, di finire il loro valo con calma, ai ragazzi di fare domani questa grande manifestazione, che voglio dire, ha ragione chi mi ha preceduto prima, non è una manifestazione, loro non stanno manifestando per togliersi la seconda prova dell'esame, stanno manifestando per una questione vera e quindi da questo punto di vista e poi consentire un sereno e graduale rientro in classe. Sono 15 giorni che questi ragazzi sono qui a fare questa lotta. Fermo lì, perché ci sono delle domande da studio. Io, buongiorno, volevo dirle, io ho apprezzato quello che è la sua posizione, cioè aver firmato questo manifesto che esplicita una volontà di riflessione su quello che è successo e sottolinea quello che è stato il ruolo degli studenti, però devo fare anche una riflessione su cui volevo che lei a sua volta riflettesse, ovvero c'era bisogno che degli studenti mi facessero arrivare alla consapevolezza che un certo tipo di linguaggio poteva essere lesivo di quello che è il rispetto degli studenti. Io sono agghiacciato di fronte a queste considerazioni, ma come? E aggiungo, io do per scontata la buona fede dei professori che non erano al corrente di quello che stava succedendo in quella prima fase, ma dico, ma com'è possibile? Non so neanche decidere se sia più grave chi sapeva e ha taciuto o invece chi non si è accorto di quello che in una comunità come quella scolastica ha il dovere di avere un'empatia e un ascolto nei confronti di quello che avviene all'interno della scuola. Ultimo punto, le dico, io capisco il garantismo corretto che lei ha nei confronti della preside, ma ha usato delle parole a me insoddisfacenti nel confronto di quello che sta succedendo. Non è che in maniera involontaria la sua presenza stava creando una situazione di imbarazzo. C'è stata per quello che è la testimonianza di molti ragazzi una vera e propria omissione di intervento. E quindi riflettete con grande serietà quando vi ponete di fronte all'opinione pubblica. Vuole rispondere a questo che ha detto Riccardo Bocca? Guardi, io colgo un tono polemico nei confronti di questa domanda e sinceramente questa polemica la ritengo giusta, figuriamoci legittima, ma se mi consente, ci sono due livelli in questa vicenda. Una è il merito della vicenda specifica che riguarda questo collega e che riguarda anche l'eventuale... Io personalmente ho maturato la convinzione che ci sia stata sottovalutazione, che ci sia stato un limite nell'azione evidente, nell'azione di chi doveva agire e l'ho detto anche nelle sedi preposte. E tuttavia quel tipo di riflessione che noi abbiamo fatto, guardi, è una riflessione che non investe soltanto la scuola, deve investire certamente la scuola, ma deve investire tutta la società. E questo non lo dico perché voglio in qualche modo allargare o gettare la palla in tribuna. Lo dico perché oggettivamente io penso di essere un docente discreto. Ho una grande empatia con i miei studenti. I miei studenti che stanno facendo l'occupazione sono tutti alunni in gran parte sotto la mia diretta responsabilità. E quindi i quali mi hanno dimostrato...quanto ho visto però che questi ragazzi hanno posto un problema che va, ripeto, al di là del fatto specifico, hanno posto un problema più generale, con grande maturità. Allora io ho riflettuto come docente, come uomo, come cittadino, che evidentemente c'era un'insufficienza su questa, una forte e una seria insufficienza su questa questione. Ma lei, Gabriele Petrone, lei sapeva di questo... Dica, dica. Voi, alcuni di voi, lei, risponda come può chiaramente, sapevate di questa situazione, delle continue battutine che faceva questo professore? Avevate sentito qualcosa o no? Guardi, io, guardi, è una domanda che mi viene rivolta spesso. Io capisco che voi, come operatore dell'informazione, facciate questa domanda e la considero sicuramente una domanda legittima. Vi voglio però dare un quadro. Questo è un istituto di 1.400 alunni, con 150 e 200. Ma non è una domanda polemica la mia, è solo una curiosità. No, 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 assolutamente, no, assolutamente. Lei ha assolutamente... No, 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 non penso che sia polemica. E non sto rispondendo polemicamente con lei, sto cercando di spiegare. 1.400, più di 1.400 ragazzi, 150 docenti, 30 ATA. È un piccolo comune, per essere chiari. E quindi, in qualche misura... Questa è una riflessione che dovrebbe avere il legislatore con questi mega impianti, questi megapoli, che ovviamente non consentono anche un controllo, una circolazione dell'informazione. Rispetto al merito, però, la questione, dal punto di vista proprio specifico, da che come emerge, pare fosse stata segnalata. È chiaro? che chi doveva agire, non ha agito, ha una responsabilità diretta. Noi, come docenti, ci siamo assunti, invece, una responsabilità, se mi consente, educativa. Dio non aver saputo percepire un disagio, di non aver saputo percepire, ma che è più generale, più complessivo, non rispetto alla questione specifica. D'altro canto, se io non ho notizia di una cosa, è difficile, in generale, come faccio ad intervenire. Tuttavia, su questi temi, onestamente, penso tutta la scuola italiana, anzi, posso dirlo con orgoglio. Meno male che da questa Calabria si è uscita questa immagine della Calabria, non la solita Calabria della mafia, la mafia, è uscita l'immagine di una Calabria civile, che pone questioni grandi a tutto il Paese. E se mi consente, questo è anche un motivo d'orgoglio, per me, come docente, perché forse a questi ragazzi qualcosa gliela stiamo insegnando. Professore Libertoni, professore... Allora, c'è Chippaone, poi c'è Antonella Rossi, qui... Capisco tutta la buona volontà che lei sta mettendo, ma non siete stati voi, sono stati i ragazzi a dare un segnale nuovo di una nuova Calabria. E l'abbiamo riconosciuto. Perché se i ragazzi non avessero tirato fuori la storia, non avessero fatto quello che hanno fatto, non avessero chiesto l'aiuto della stampa e della televisione, non si fossero messi davanti ai cancelli con i cartelli. Se noi stavamo aspettando la preside e voi professori, non sarebbe mai uscito fuori nulla. Quindi evviva i ragazzi calabresi, ma evviva gli studenti, non gli avete insegnato nulla. Loro stanno insegnando qualche cosa a voi. Perché qui c'è una preside che si dimentica che è preside di una scuola pubblica. La parola pubblica vuol dire che questa preside deve smettere di non rispondere alle domande dei giornalisti. La scuola pubblica non è una scuola privata e per questo pretende e richiede trasparenza assoluta. Perché è pagata con i soldi degli italiani, con i soldi delle persone che pagano le tasse. E poi non deve star lì da anni. Bisogna fare in modo che chi ha queste posizioni abbia una rotazione di incarico. Questa preside sta lì da una vita e inevitabilmente, anche non volendo, è diventata un centro di potere opaco. Ora, io per diritto e dovere di cronaca devo dire questa cosa. Questo professore che noi abbiamo in diretta è uno dei sei professori, solo sei in tutta la scuola, che ha scritto una lettera di scuse ai ragazzi. Non perché sapevano e sono stati zitti, ma perché non avevano ascoltato bene i segnali dei ragazzi e davanti a tutta questa situazione hanno chiesto scusa soprattutto di una, come dire, di un comportamento non direttamente loro, ma di chi sta sopra di loro, ovvero il dirigente, anzi in questo caso la dirigente, la preside. Io lo devo dire Gabriele per correttezza anche nei tuoi confronti, così anche chi sta a casa comprende che tu sei uno dei pochi professori, sei uno dei pochi docenti che permette di fare le lezioni in esterna a questi ragazzi perché ce ne sono molti altri di professori che invece hanno espresso estrema solidarietà alla preside e per cui non seguono le richieste dei ragazzi occupanti. Ok? Dimmi dottoressa. Allora, io volevo farle una domanda. Io ho sentito in altri servizi che questo suo collega era stato spostato, veniva spostato, era stato spostato da un liceo a un istituto superiore e le chiedo conferma, perché questi spostamenti nei docenti, io che vengo dal mondo della scuola lo so, devono essere fatti per motivi molto molto gravi. Questa è la prima domanda che mi viene da farle. Poi capisco e mi associo a quello che diceva Leonora, lei è uno dei pochi che ci sta mettendo la faccia, però questo è il problema della scuola, che i ragazzi in qualche modo vengono visti nei contenuti, nelle nozioni. Ci si barrica sempre di più dietro al nozionismo. I ragazzi sono persone, vanno visti come persone e se c'è qualcosa che loro manifestano bisogna bloccare la lezione, bisogna capire cosa c'è dietro al loro malessere, perché dietro a quel malessere c'è una persona, c'è una famiglia, perché io non oso immaginare questa ragazza che aveva 14 anni allora, adesso non so quanti anni abbia, che tipo di trauma si sia portata dietro, perché qua non si parla di parole, perché lei ha parlato di parole e di atteggiamenti, qui non sono atteggiamenti, qui sono fatti molto molto gravi, perché viene chiesta a questa ragazza di dare delle prestazioni quasi sessuali, perché la foto diventa una prestazione. Questa ragazza non si è sentita tutelata dalla scuola, che è come la famiglia, è il posto dove ci si deve sentire più tutelati, ma soprattutto più visti. Questi ragazzi non sono stati visti e questo è fondamentale. Prima di vedere questa lettera che voi avete scritto, però volevo continuare il racconto, se i miei autori me lo permettono, perché ad un certo punto Giulia ci dice, io sono andata a quel punto con la mia famiglia a fare denuncia e sentite com'è andata avanti la sua descrizione. La cosa che non capisco è che la denuncia, della denuncia lei non vi ha detto assolutamente nulla, cioè voi pensate che quella denuncia non sia mai stata fatta, magari avrà fatto un resoconto ai suoi titolari, ai suoi referenti, ma non una denuncia dai carabinieri. Leona, posso intervenire un secondo? Probabilmente. Sì, rispondi Giulia e poi intervengono gli ospiti. Giulia, tu di una denuncia effettiva nulla sai? Allora, sì. Perché l'hai fatta tu la denuncia poi? No, non so nulla. L'ho fatta io, l'ho fatta io adesso, proprio perché sono venuta comunque a conoscenza del fatto che la presidenza non aveva mai mosso denuncia contro di lui, quindi non aveva mai mantenuto la parola che mi aveva dato a me e ai miei genitori. Per cui i tuoi genitori sono stati d'accordo appunto in questa denuncia che tu hai fatto da poco e che ha scatenato l'occupazione e di fatto anche la vicinanza dei tuoi coetanei, dei ragazzi del liceo e l'occupazione della scuola. Ecco, questo è un passaggio molto importante innanzitutto perché Giulia, nome di fantasia, ha potuto denunciare dopo diversi anni. Voi sapete che i tempi di denuncia non sono sempre così lunghi. C'è stata un'omissione chiara ed evidente da parte della preside che ha permesso a Giulia e ai genitori di poter portare avanti una ulteriore, anzi una prima denuncia che non era sicuramente stata fatta perché Giulia non è stata sentita da nessuno. Cioè che non sia stata, professore, che non sia stata fatta una denuncia formale e palese perché altrimenti Giulia sarebbe stata ascoltata come sarebbe stato ascoltato il professore. Era sola, completamente sola. Capito? Ma secondo lei, secondo lei... E' illusa per giunta. Secondo lei, secondo lei dottoressa, secondo lei dottoressa, perché alcuni di noi, ma interpretando un sentimento diffuso, ci siamo esposti, e guardi che non è semplice esporsi per chi fa questo nostro mestiere, nel senso, per tutta la serie della giornata, no perché ci siano particolari, perché comunque la scuola rimane un posto libero, tranquillo e francamente certe critiche anche ingenerose non le condivido perché siamo la maggioranza quelli che fanno il loro dovere. E tuttavia perché molti di noi hanno assunto questa posizione? L'abbiamo assunta perché appariva evidente un'insufficienza della risposta data, sia sul fatto specifico, sia poi successivamente quando è montata la protesta. Perché se fossi stato io al posto della dirigente, e lo dico, mi sarei messo io alla testa degli studenti per questa battaglia. Non so se rendo l'idea. Io avremmo fatto un lavoro di assunzione collettiva di responsabilità. Purtroppo si è rimasti prigionieri ad un'impostazione burocratica. La scuola purtroppo è un organismo burocratico. Lo diceva prima la dottoressa, prima che ha parlato, condivido questo aspetto che diceva. La scuola deve essere più capace di mettere insieme e di parlare, condividere. E' uno sforzo che possiamo fare, facciamo magari singolarmente, lo facciamo tanto, ma ci vorrebbe qualcosa in più. Però Gabriele, lei prima ha detto che avete chiesto alla paresi di fare un passo indietro. Ma il passo indietro, per come la vedo io, non è mettersi in malattia. Il passo indietro è mettersi a confronto con i ragazzi. È diverso. Guardi, dal punto di vista formale, non esiste l'istituto delle dimissioni. Non esiste l'istituto del commissariamento. Ma lascia stare la burocrazia, sto parlando del dialogo, il dialogo che è la prima base dell'educazione. Ma infatti, cara dottoressa, è esattamente quello che abbiamo rimproverato in questa vicenda. C'è un'impostazione che non ha cercato il dialogo con gli studenti, ha creato una parte e una controparte, ma anche con i genitori. I genitori stanno raccogliendo le firme per la rimozione della preside. Sì, però guardi, professore, i genitori stanno raccogliendo nulla oltre. I genitori condisce il fatto che si sia dovuti arrivare a un'occupazione da parte degli studenti. Cioè l'ascolto da parte dei professori doveva avvenire prima e doveva esserci un movimento da parte dei professori che si facesse carico di ciò che non era stato fatto. Non lo sapevano. E guardi, è esattamente quella cosa che abbiamo scritto in quella lettera, guardi. Noi abbiamo scritto in quella lettera citando e dimorre lo stanno. Ma andiamo alla sua lettera, un attimo. Ce l'abbiamo? No, pur non avendo fatto mai nulla di male, si hanno di sé mille piccole nausee il cui totale non dà un rimorso ma un oscuro tormento. Questa frase di Ross Stanton, Siriano de Bergerac, è una frase emblematica. Spesso non è sufficiente fare il proprio dovere. Bisogna andare anche oltre il proprio dovere. Spesso bisogna superare anche i limiti. Ma questo, guardi, è un problema che riguarda noi... Ricordiamo che stiamo parlando di reati, eh? Cioè, non stiamo parlando di... Stiamo parlando di reati. Cioè, di reati all'interno di una scuola. Esatto. Cosa enorme. Le posso fare una domanda? Adesso mando questa lettera... Stia tranquillo che se io fossi stata a conoscenza... Eh. Di che? Dica. No, no, continuo il suo discorso. Se lei fosse stata a conoscenza... No, che si fosse stata a conoscenza. Ma chiunque di noi avrebbe messo in evidenza e ha fatto il proprio dovere che gli compete. Io di questo sono certo. È evidente che qui c'è stato un fatto specifico. La mia domanda è questa. Perché, secondo lei, la Preside non ha fatto niente? Ha promesso e non ha fatto? Vado in profondità. Questa è una domanda che può rispondere... Guarda, è una domanda che può rispondere soltanto la dirigente. Ripeto, che è una funzionaria che in questi anni ha mostrato una grande capacità... Al di là della colpevolezza o meno del professore. Io non sto dicendo del professore colpevole. Io sono detto perché la Preside... Lì il punto... Ma io penso che ci sia stata una sottovalutazione. Ci sia stata anche una tendenza, diciamo, a minimizzare. Ma non è plausibile il suo professore sia realista. Non è plausibile il suo professore sia realista. Lei è un uomo. Sia più coraggioso nelle sue affermazioni. Mi faccio finire però. Sì, però sia più coraggioso. Perché non è plausibile quello che sta dicendo. La sottovalutazione, il minimizzare una cosa di una tale manifesta ipotetica gravità... La capisce anche un bambino. Un allievo delle elementari la capisce. Non è credibile che una Preside la possa avere sottovalutato. Se mi fa finire però... Prego, mi scusi. Io non sono la Preside, non sono a conoscenza dei fatti... No, si figuri. Non sono a conoscenza dei fatti diretti. Loro stanno facendo, giustamente, un servizio giornalistico e si basano sulle cose emerse. Ovviamente io non vivo su Marte, quindi vivo qui e quindi non voglio mostrarmi reticente, eccetera, oppure giustificativo. Sto dicendo che sostanzialmente se non c'è stata la sanzione disciplinare e la segnalazione, come pare evidente, mi pare, è evidente che addirittura non si è tutelato neppure quel collega, perché non gli si è messo anche in condizione di difendersi nelle sedi opportune. Questo è un problema molto serio quello che le sto dicendo. Mi segue? Quindi la questione è ancora più grave di come lei la sta mettendo. È chiaro quello che sto dicendo. Paradossalmente una sanzione disciplinare, una inchiesta talvolta, è a tutela, e come dice la nostra Costituzione, di chi è sottoposta ad inchieste. Ma certo. Quindi capisce quello che vuoi dire. Io sono uno, sono profondamente vero, e infatti di questa cosa, questo è un altro aspetto su cui forse non si sta riflettendo abbastanza. Però ripeto, io non sono a conoscenza di direttamente. Io invece vi voglio far riflettere su un altro aspetto. La butto lì. Se fossero vere le accuse verso questo professore. Alcune ragazze hanno parlato. Vi ricordo che le richieste del professore erano, mandami la foto del seno, nudo, così ti do i voti alti, così ti do la sufficienza, così ti faccio passare. Un ricatto. Esatto. Ora, davanti ad un ricatto del genere, qualcuno ha detto di no, qualcun'altra per paura dell'autorità di questo professore, o per paura di parlare o di raccontare ai propri genitori quello che stava succedendo, magari è scesa questo ricatto e chissà quale incubo ha vissuto. E magari queste ragazze non stanno parlando. Ora mi chiedo, i voti di questo professore, dati in base a delle foto che venivano richieste e moleste sessuali, che validità hanno in tutti gli anni in cui lui ha esercitato il suo potere? A questa domanda pensateci e intanto mandiamo la vostra lettera, quello che avete scritto. Alla studentese, agli studenti, alle famiglie, diciamo oggi di stare tranquilli. La scuola che frequentano, dove stanno crescendo e a cui hanno affidato i loro figli è un luogo sicuro. Se ci sono stati nel corso di questi anni azioni, comportamenti, episodi che hanno in qualche modo incrinato il rapporto di fiducia tra le diverse componenti scolastiche, è interesse di tutti che questi emergano in piena luce e siano valutati e perseguiti nelle sedi opportune, comprese quelle giudiziarie. Di una cosa dobbiamo essere tutti certi. Non ci può essere alcuna tolleranza per ogni forma di molestia sessuale, di violenza fisica o verbale che offenda la dignità di tutti e in particolare di soggetti minori e informazione. Allo stesso tempo è necessario evitare inaccettabili generalizzazioni o processi sommari, che sempre lasciano solo macerie e ferite profonde che difficilmente potranno essere rimarginate. Questa era la vostra lettera. Io l'ho trovata molto bella questa lettera, professore. Vorrei correggerla però. No, no. Mi dica. No, questo, guarda caso, conferma quello che dicevo prima. Questo è il documento che abbiamo approvato unanimemente al collegio di docente, nel primo collegio di docente, quando si è aperta la vicenda. E l'abbiamo votato tutti quanti all'unanimità. Poi c'è stato un successivo passaggio, c'è stata una lettera che abbiamo assunto noi con sei docenti, che è un altro testo che invece chiedeva scusa ai ragazzi per non aver saputo accogliere il legno. No, ma infatti non è quella che abbiamo mandato. La lettera alla quale io mi riferivo è stata una lettera molto bella. No, ma lo dico per correttezza ai colleghi che l'abbiamo votato tutti. Voi avete scritto, perché questo è il primo comunicato che è stato scritto, ma così a caldo probabilmente. Voi avete scritto una lettera molto bella che purtroppo non è andata in onda, adesso vediamo se riusciamo a recuperarla. Ma me lo ricordo quello che c'è scritto in questa lettera. Pensavo che l'avessimo preparata anche in video. Comunque non è andata, non ha importanza. In questa lettera voi avete chiesto fondamentalmente scusa a questi alunni per non aver ascoltato i loro segnali. È che la scuola in questo aveva fallito. Voi avete chiesto scusa di questo ai ragazzi e li avete appoggiati assolutamente. Solo sei docenti. Voglio andare però sulla domanda che ho fatto prima. Giulia ha raccontato che ad un certo punto il professore viene spostato in un altro istituto, ma le molestie sono continuate. Ora mi chiedo, questi voti che lui ha dato erano veritieri? E soprattutto le persone che lui ha bocciato, potevano essere state vittime di molestie se tutto fosse confermato poi dagli organi competenti? Il sospetto non può non esserci. Il sospetto c'è. Stato di plesso, cioè non era più il tuo insegnante di matematica e fisica, era andato in un altro istituto che è adiacente al tuo, quindi tu lo vedevi sempre in ingresso e in uscita e sai che anche in quel caso, anche in quell'istituto, ha attuato le stesse tecniche, quindi ha fatto battute, ha chiesto foto a sfondo sessuale anche ad altre ragazze? Sì, sì, anche nell'istituto in cui è stato spostato il professore tendeva sempre a fare queste battute appunto a scopo sessuale sulle ragazze. Inoltre sono uscite fuori anche delle testimonianze di ragazze a cui era successa quasi la stessa cosa, ovvero il professore chiedeva foto in cambio della sufficienza, cercava di palpare comunque le parti intime delle ragazze e tendeva sempre ad avere un forte legame con loro. Allora, cecchi, dicevi? Dicevo che... Può essere stata qualche bocciatura, ad esempio? Il sospetto a questo punto c'è ed è ancora una volta un problema di questa preside. Allora ci sono fatti gravissimi, forse penali, vedremo, fatti gravissimi perché hanno a che fare con violenze sessuali, perché sono violenze sessuali anche le molestie, vera dottoressa. Però poi qui questo silenzio prolungato, questo rimandare, questo non parlare, questo non essere trasparenti, può dare il via a una serie di ricorsi presso la giustizia amministrativa senza fine, perché chiunque sia stata bocciata negli anni da questo professore può dire davanti a un tribunale amministrativo regionale questo voto non è valido, questa bocciatura non è valida perché è stata motivata da un mio rifiuto rispetto a queste avanze. È tutto ipotetico, ma capite che più si tace, più si è taciuto e più si è fatto un danno alla scuola negli anni, a questa scuola e a questi tipi di corsi di questo professore. Peraltro apre una serie di riflessioni importanti che possono essere condivise col professore, ma con noi tutti sulla centralità della scuola in questo momento. In un momento particolarmente delicato, pandemico, speriamo prima o poi post-pandemico, in cui le fragilità sono estreme e nel momento in cui serve una coesione e assistiamo in questi giorni a tante situazioni su cui viene da riflettere. Professori che dicono a una studentessa con la pancia fuori, non sei sulla salaria. Una difficoltà veramente in cui un atteggiamento coeso e di consapevolezza diventa un momento di ripartenza estremamente importante, di ascolto. Ora, l'ascolto, che non è arrivato prima, adesso è arrivato dagli ispettori del ministero che hanno sentito tutte le ragazze. Oggi sentono un'altra ragazza, una studentessa di qualche anno fa, che è uscita adesso dal liceo, Roberta, per cui sono ore molto, molto importanti in vista di questa manifestazione che ci sarà domani. Aggiornaci un attimo. Sì, Eleonora, ci sono momenti, come hai detto, importanti. Le due ragazze, Giulia e l'ex studentessa, l'ex liceale, che hanno formalmente denunciato, sono state ascoltate ieri in procura e questa oggi, già adesso, nelle ultime ore, sappiamo che dovrebbe essere ascoltata la ragazza dalla quale è partito tutto tramite i social, quella pagina famosa aperta sui social di denuncia che poi ha raccolto le altre varie denunce. Gli ispettori sono ancora all'interno e ti posso dire, Eleonora, che per quanto riguarda il professore una mamma, prima della nostra diretta, si è fermata, ci ha avvicinato per raccontarci che il professore pare abbia attuato degli atteggiamenti di bullismo, di offese nei confronti dei ragazzi, anche maschi, non a sfondo sessuale, e che anche questi, la mamma è una rappresentante di classe, e che anche questi fatti erano stati segnalati più volte dalla preside, dalla dirigente, la quale non aveva, come abbiamo visto nelle precedenti dichiarazioni, non aveva fatto alcunché. Dunque, va bene. Allora, grazie Roberto.